Benvenuti a questa edizione del telegiornale. Conte completa la squadra di governo. Nel PD scoppia il caso Toscana. Assegnati 42 posti tra viceministri e sottosegretari. 22 vanno al Movimento 5 Stelle e 18 al PD, 2 all'EU e 1 al Maire. L'ira dei Renziani per l'assenza di Toscani. Nardella dice Zingaretti dia spiegazioni. Boschi non vorrei fosse un modo per colpirci. Il governatore Rossi deluso ma l'ex premier ha diversi ministri. Migranti la Germania si offre di accogliere il 25% di quelli sbarcati in Italia. Il ministro Schofer pronti a prendere un quarto di quelli che vengono salvati nel Mediterraneo. Gualtieri all'Eurogruppo basta guerre con Bruxelles ma sulla flessibilità l'Unione Europea prende tempo. L'esortio del ministro a Helsinki. Investimenti verdi fuori dal deficit. Taglio delle tasse senza flat tax. Dombrovskis rimanda alle previsioni d'autunno. Parte il confronto sulla manovra. Conte convoca i leader di CGL, Cisle e Will per il 18. La Bundesbank contro Draghi è andato oltre il dovuto. Wademan non serviva un simile intervento su tassi e QE. E su Build il presidente della BCE diventa Draghi. All'Italia ora decisive per la nuova proroga. Domenica la scadenza per l'offerta vincolante e il piano industriale ma si profila lo slittamento di un altro mese. incendio in una fabbrica dichiarato lo stato d'emergenza ad Avellino. Una nube nera si leva dall'impianto che produce contenitori di batterie per auto. Nessun ferito incendio domato. Conte nelle zone terremotate Italia solida non chiediamo favori all'Unione Europea. Il Premier ad Accumuli promette soluzioni concrete e avverte. Stop proroghe per le ricostruzioni private. domande entro dicembre. Ponte di Genova, Tegola su Atlantia. Nove arresti nell'inchiesta bis e il titolo sprofonda in borsa. Coinvolti dipendenti e consulenti del gruppo. L'accusa è false attestazioni sullo stato di sicurezza di viadotti autostradali prima e dopo il crollo del Morandi. La società dice i viadotti Pecetti e Paolillo sono sicuri ma in borsa crollo dell'8%. Incontro Berlusconi-Salvini centrodestra unito in piazza il 19 ottobre. Fronte comune contro il governo giallorosso. Il leader di Forza Italia dice piena sintonia. Chi sostiene Conte è fuori dal partito. Klima la sfida di Greta a Trump sit-in davanti alla Casa Bianca. La giovane attivista svedese simula l'estinzione di massa insieme a centinaia di studenti. La guerra delle liti stradali da inizio anno sei morti e 110 feriti. Rintracciato il presunto omicidio del papà di Andria è un cinquantenne del posto. Grazie per avermi ascoltato. Vi rimando alla prossima edizione del telegiornale. Arrivederci.